Allora ragazzi, bentornati in un nuovo video, sono sorridente ma purtroppo c'è poco da ridere perché oggi dobbiamo affrontare la questione centrocampo del Napoli in realtà il Napoli ora come ora ha delle grane in tutti i ruoli in difesa non ne parliamo proprio, a centrocampo c'è l'infortunio di Temme e in porta c'è il problema opposto, se a centrocampo e in difesa mancano giocatori in porta ce ne sono pure troppi, abbiamo tre portieri, tutti e tre molto forti abbiamo un terzo portiere che farebbe tranquillamente il titolare in Serie A abbiamo un secondo portiere, Ospina, che è un top internazionale e abbiamo il primo portiere che è un giovane promettente italiano quindi problema opposto ma oggi dobbiamo parlare del centrocampo dove se, come detto prima, c'è abbondanza in porta e in attacco al centrocampo ragazzi non c'è più un cane, non c'è più un cane perché abbiamo venduto Bacaglio Co, Zierischi è diventato un trequartista e quindi ora come centrocampisti erano rimasti Lobotka, Fabian e Demme Ed Elmas, Ed Elmas Demme ed Elmas Bene, Demme si infortunia, siamo rimasti vuoti ragazzi siamo rimasti con Lobotka, Fabian ed Elmas Elmas che è un giocatore a cui non affiderei mai il centrocampo della mediana se si gioca con un 4-2-3-1 metteteci chiunque in mediana anche un bambino della primavera ma non metteteci Elmas perché non è capace di amministrare il gioco e quindi ragazzi adesso il Napoli deve trovare un giocatore che faccia le veci di Demme un giocatore che sappia stare in mediana si stava pensando a un ritorno su Bacaglio Co però adesso qui davanti a me ho una news molto interessante Spalletti riprende Vesino il Napoli ci prova l'Inter però pone un ostacolo ragazzi cosa vuol dire? il Napoli vorrebbe ritornare su Vesino ma vorrebbe acquistarlo solo in prestito perché il Napoli era già interessato a Vesino da diverso tempo l'interesse si sa e c'è l'inter invece e a me non capisco perché il Napoli debba sempre andare sui giocatori in prestito l'inter vuole cederlo solo a titolo definitivo quindi l'inter ha detto o te lo compri o te lo compri niente prestiti Mattias non direbbe non so perché sarebbe apprezzato la missa in Italia del suo staff tecnico quindi l'inter non ha neanche problemi a tenersi Vesino in squadra cioè Vesino ragazzi è un giocatore di quelli che comunque bene o male te lo tieni perché veramente pure io se ce l'avessi al Napoli è un giocatore che sa gestire il pallone un giocatore ordinato un giocatore concreto sotto porta quindi te lo tieni volentieri uno come Vesino forse gli manca un po' di strapotere fisico ma sinceramente una volta che gli ha affiancato un giocatore messo bene come Fabio Ruiz a livello fisico insomma quindi ormai ragazzi penso che con l'involzione di Demme il Napoli è obbligato obbligato a trovare un sostituto e dunque prima già lo eravamo un po' cioè dopo che si è andato Bagaglio Ko ci vuole un altro centrocampista no? nella mediana adesso il Napoli è obbligato a trovare un sostituto di Demme e un sostituto anche di Bagaglio Ko a questo punto quindi per me andrebbero presi proprio due centrocampisti perché Ziedischi si Ziedischi ce lo puoi mettere in mediana ma è diventato a tutti gli effetti un trequartista Elmas spesso e volentieri faceva la fascia sinistra sostituendo Insigne quindi Elmas a centrocampo non ci ha mai più giocato con Gattuso ed è un giocatore molto molto offensivo quindi non è più un mediano rimanevano come mediani Bagaglio Ko Lobotka Demme e Fabian nel momento in cui se ne va Bagaglio Ko e si rompe Demme il Napoli deve prenderne due amici miei quindi vediamo un po' sembrava fatta per Basic del Bordeaux poi ultimamente stavo avvicinando la voce che la Lazio lo avesse già preso e infatti ad ora mi stanno arrivando solo nomi solo commenti la Lazio ha preso Basic ebbe fatto il Napoli queste cose qua quindi vabbè direi che è saltata anche l'idea Basic peccato era un bellissimo talento e quindi speriamo bene per Vesino ragazzi è un giocatore che io vorrei avere assolutamente in squadra la Garracia Rua al di fuori di questo è un ottimo giocatore che non costerebbe neanche tanto ora come ora siamo intorno ai 10-15 milioni di euro veramente spiccioli quindi sarebbe davvero fantastico fatemi sapere cosa ne pensate di lui e dell'infortunio di Demme noi ci vediamo la prossima sempre e comunque Forza Napoli e ciao a tutti ragazzi bye bye